Difficile commentare il momento della Scandonia-Vellino, il bilancio vittorie sconfitte nell'ultimo mese dice tutto su una squadra spenta, piatta, incapace di esprimere un gioco vincente e divertente. Nell'ultimo mese e mezzo è stata vinta una sola gara contro Brescia in casa, mentre si è perso con Cantù, Cremona, Bologna ed appunto Trento. L'eliminazione dalla Coppa Italia, ma soprattutto dalla Champions, rischiano di aver demotivato un gruppo di giocatori evidentemente frustrato e quasi senza voglia. L'espressione del volto di alcuni atleti la dice lunga, bisogna dare una sterzata al campionato e sarebbe facile ora addossare tutte le colpe sull'allenatore che rischia di diventare il capro espiatorio della stagione. Avelino di sicuro non gioca una palla a canistro esaltante né divertente, anzi è molto estemporanea e si basa sul talento dei suoi giocatori. Wucic non è il solo responsabile di una stagione indecifrabile, lo è anche Nicola Alberani che nell'ultimo periodo è stato quasi messo alla porta dalla proprietà. Il DS è qualcosa alla sbagliata, un paio di giocatori non hanno convinto, soprattutto la scelta di Wucic è stata una scommessa persa, ma bisogna essere onesti e ricordarsi di quanto è accaduto la scorsa estate. Alberani infatti aveva trovato l'accordo con Max Menetti, fresco vincitore della Coppa Italia di A2, ma l'ex reggiano venne poi ripudiato da De Cesare, influenzato probabilmente dalle voci del popolo. Non potendo ripiegare su tecnici avellinesi o di A2 o altri, Wucic è sembrata essere per Alberani la scelta più ovvia per il nuovo corso. Di ovvio però non c'è nulla, se non una gestione societaria che non convince perché nessuno è messo nelle condizioni di fare il proprio mestiere. Oggi riprendono gli allenamenti, si spera in un cambio di rotta, ma soprattutto nel ritorno in campo di Demetrius Nichols. Oggi riprendono gli allenamenti, si spera in un cambio di rotta, ma soprattutto nel ritorno in campo di Demetrius Nichols.